Invece io vorrei approfittare di un collegamento che abbiamo per portarci su un altro servizio che l'EFTA ha sviluppato questa settimana ed il titolo del servizio è I Boss della Madonnina. È un servizio scritto da un viato speciale, molto speciale, un attore, regista, direttore artistico del teatro Nebbiolo di Tavazzano e Giulio Cavalli. Buongiorno Giulio. Buongiorno a voi. Come va? Bene, bene. Senti, tu hai scritto un libro dove racconti, ci sono... No, 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 non l'ha scritto. Non l'ha scritto lui, l'ha scritto Fabio Abbati e Igor Greganti, che sono gli autori di questo libro. Non darmi i meriti. Sì, però tu ne hai fatte tantissime, ne hai fatte tantissime per aiutarci a capire quel che sta succedendo, sia a Palermo che in Calabria e poi in questo caso persino all'ombra della Madonnina, in Lombardia. Che succede? Sì, guarda, perché io trovo che sia un libro fondamentale soprattutto per i tempi, ecco. Perché scrivere oggi un libro sul cartello di mafie che opera in Lombardia, l'ho trovato un gesto coraggiosissimo da parte sia di Abbati che Greganti, ma anche dell'editore, anche perché la mafia del Nord è veramente difficilmente commerciabile e fa poca notizia. In realtà qui al Nord abbiamo un testimone d'eccezione che è Gianni Barbacetto che da anni mappa le criminalità di Milano, però fuori da Milano c'è una regione che vive in realtà di industrialotti dalla fattura facile, di questa assoluta presunzione di non entrare mai in contatto e di non avere questo problema delle mafie e che in realtà sta facendo proliferare direi perfettamente un coordinamento di Indrangheta, Cosa Nostra e Camorra, oltre che ovviamente le solite mafie cinesi e rumeni che già da anni sappiamo e riconosciamo. Cosa ci dice il libro di Abbati e di Greganti? Ci dice che qui dove la sindacessa di Milano ci tiene a precisare che la mafia non esiste, tra l'altro dopo 48 ore, questa sua dichiarazione per una meravigliosa teatralità dei tempi e delle cose è successo che hanno trovato Marra su un pregiudicato proprio nel cantiere più importante di Milano, quello dietro al Duomo o al Conduomo fiscale, come si vuole chiamare e in realtà nella zona di Allabrianza del basso garda dell'Odigiano c'è questa possibilità di poter ripulire del denaro, ovviamente in accordo con commercialisti faccendieri e soprattutto con aziende che hanno questa grossa difficoltà di recupero crediti, essendo a conduzione pressoché familiare una fattura non pagata può determinare la sopravvivenza dell'attività e per cui si affidano a questi emigranti, emigranti che sono di solito gente che è andata al Garda perché è stata confinata e che adesso controllano come i piromalli nella zona del Garda arrivando dall'Emilia Romagna, come nella zona di Bergamo la famiglia Landrina dei Bellocco specializzati nel recupero crediti e come nella zona di Varese e dell'Odigiano la famiglia di Rinzivillo che sono una famiglia di Cosa Nostra di Gela. A proposito Giulio, sono Pietro, ciao Ciao Pietro Tu sei in qualche modo testimone perché uno dei centri di questo clan gelese, di origine gelese, è proprio sotto casa tua, anzi sotto il tuo teatro, quanto sembra Anche sulle pareti del mio teatro Anche si trasferisce a volte con alcuni graffiti sulle pareti del tuo teatro, ma Ci vogliamo spiegare questa cosa? Sì diciamo Giulio Cavalli è da qualche mese che gli stanno dipingendo il teatro, il furgone con alcuni simpatici inviti di smettere di parlare di mafia e quindi diciamo che a Tavazzano dove ha il teatro Giulio e dove opera Giulio, questo teatro è una sorta di astronave atterrata nella bassa Lodigiana per intenderci, ci sta una forte attività di penetrazione all'interno degli appalti da quanto io so, da quanto anche documenta il servizio e il libro Polo Nord di cui tu parli. Puoi raccontarci un attimo la storia proprio del tuo territorio, di dove tu vivi e operi e tenti di fare un lavoro culturale in quel territorio? Allora precisiamo una cosa, parliamo di Lodi che è una città che è riuscita a non accorgersi tutt'oggi e a sentirsi assolutamente incolpevole, senza responsabilità su quel meraviglioso disastro finanziario che è stata la Popolare in questi ultimi anni. I Rinzivillo hanno preso un grosso appalto alla centrale termoelettrica che è a Tavazzano, un affare da 4 milioni di Euro e hanno trasferito proprio perché l'appalto era di queste proporzioni alcuni loro uomini qui, il loro portavoce era un certo Angelo Bernascone che tra l'altro adesso è anche che è stato già condannato. E questa frase che secondo me è molto bella, perché è indicativa, lo stesso Bernascone al telefono dice ormai qui sta diventando come gela, il bordello che c'è qui tra poco viene fuori. Perché? Perché in realtà l'impunità di queste penetrazioni in appalti o nella gestione soprattutto di locali notturni viene garantita dalla mentalità della gente, da gente che tutt'oggi dice la mafia non esiste e per cui un lodigiano che decide di parlare di mafia è un marziano o addirittura è un sobillatore, per cui in questo momento politico di distrazione e dove le uniche ronde devono essere per gli immigrati, parlare di mafia sembra quasi voler creare preoccupazioni che non meriterebbero, per cui è molto difficile. Fortunatamente ho l'appoggio di gente che la mafia la vive in frontiera e quindi mi supporta in questa attività. Tu nel servizio racconti anche un caso di cronaca che sembrava semplicemente un suicidio inizialmente di Brescia che invece ha svelato una vicenda molto più complessica, sto parlando della streggio Cotarelli per intenderci. Puoi raccontare questo esempio di tipica vicenda di provincia lombarda che si scatela? Sì, è molto significativo. Nel agosto del 2006 viene trovato Angelo Cotarelli che è proprietario di alcune aziende, commercialista e viene trovato sgozzato con le mani legate da delle fascette da elettricista insieme ai cadavri della moglie e del figlio. Quando il coraggiosissimo procuratore Tarquini comincia a parlare di sterminio ad opera di comando mafioso, improvvisamente Brescia si risveglia spaventata. Di solito questi omicidi vengono addebitati così, proprio con pregiudizio e libero arbitrio al solito albanese di turno che passa per svaleggiare la villa ed è il furto finito male. Una frase invece del genere da parte del procuratore della Repubblica costringe Brescia ad aprire gli occhi invece sull'attività, in questo caso probabilmente gli accusati sono i marino, dico probabilmente perché so che hanno la querela facile nel caso in cui gli venga ditato un processo che non è ancora chiuso e in realtà si scopre che per riuscire ad usare la legge 488 del 92, cioè quella dei finanziamenti per aiutare le aziende delle zone depresse, la mafia ha bisogno al nord di false fatture per queste loro aziende affidate dei pestanomi e quindi riescono a farsele infilare da questi professionisti come può essere anche il Cottarelli che probabilmente non si rendono conto che un giochetto finanziario che gli porta un guadagno immediato e facile poi in realtà diventa un gioco molto più grande e molto più pericoloso. Si dice che il Cottarelli infatti sia stato ucciso perché è accortosi di essere entrato in un gioco molto più grande di quello che si sarebbe aspettato avrebbe deciso di uscirne. Allora ringraziamo Cavalli e a tutta la nostra solidarietà, oltre ad essere i suoi fan come spettatori, a tutta la nostra solidarietà per tutta l'attività civile.